Se stai guardando questo video è molto probabile che sei molto interessato ai concetti che ho espresso in precedenza. È altrettanto probabile che stai valutando con attenzione l'introduzione di un'automazione di magazzino per la tua farmacia. Proprio per questo, in questo penultimo appuntamento, voglio parlarti dell'evoluzione che l'automazione ha avuto nel corso degli ultimi 25 anni. La diffusione dei primi impianti dedicati allo stoccaggio dei prodotti farmaceutici inizia nei primi anni 90. Inizialmente interessava prevalentemente le grandi farmacie che avevano come bisogno primario quello di aumentare la velocità di erogazione dei prodotti rimborsabili ma anche quello di mantenere il farmacista in relazione con il paziente. Non a caso in quegli anni le macchine con maggior diffusione erano quelle di derivazione industriale come quelle adottate anche dalla distribuzione intermedia. Macchine formate da piramidi di prodotti uguali che venivano erogati a grande velocità verso il punto di consegna. Il tallone di Achille di questi sistemi poteva essere identificato nella modalità di reintegro della merce che doveva necessariamente essere fatta manualmente da uno o più magazzinieri. Ma questo era comunque accettabile in quanto la marginalità sulla dispensazione del farmaco comunque lo permetteva. Successivamente hanno fatto il loro ingresso nel mercato i primi magazzini automatici cosiddetti a tunnel progettati attraverso l'impiego di uno o due bracci prensili inseriti all'interno di un lungo corridoio con scaffalature laterali in grado di ospitare più referenze uguali sulla stessa fila. I magazzini automatici a tunnel introducevano delle novità legate al carico della merce. Infatti integravano dei sistemi di carico sia semi automatici che talvolta anche completamente automatici. Questi sistemi sostanzialmente sono rimasti invariati fino ai giorni nostri, ma oggi siamo sicuri che possono ancora garantire lo stesso grado di efficienza che avevano 15-20 anni fa? Queste tecnologie soddisfano a pieno le necessità della farmacia di oggi? Quali sono i parametri da considerare per rispondere a queste domande? Ti sembrerà strano, ma oggi l'unico parametro principale che ogni automazione di magazzino dovrebbe soddisfare è la capacità di contenimento. La capacità di contenimento rappresenta il numero massimo di confezioni che un magazzino robotizzato può contenere al suo interno. L'elevato numero di referenze che oggi la farmacia si trova a dover gestire condiziona inequivocabilmente le performance logistiche di un robot di magazzino. Ormai avrai potuto appurare che mediamente un terzo del tuo magazzino è composto da referenze con giacenza uguale a 1. Pertanto, perché l'automazione risulti efficace e produttiva, non solo deve avere un'ottima capacità di contenimento, ma deve soddisfare la prerogativa di poter ospitare al suo interno tutti quei prodotti che concorrono a generare circa il 70% del fatturato della tua farmacia, garantendo anche non meno di 15-30 giorni di copertura complessiva per ogni referenza. I magazzini con tecnologia tunnel sono stati per anni l'unico sistema efficiente che andava a soddisfare le necessità della farmacia, ma oggi si ritrovano a dover fare i conti con un radicale cambiamento di cui abbiamo parlato, caratterizzato da un numero di referenze sempre crescente e con l'aggravante di prodotti con packaging di dimensioni molto differenti tra loro. Un cambiamento che io amo definire la polverizzazione delle giacenze. Abbiamo visto come molti consulenti analisti che si occupano di studiare i fatturati e i bilanci delle farmacie insistono nel dire che l'obiettivo deve essere quello di portare la quota dei prodotti rimborsabili a ricoprire non più del 30% del fatturato complessivo, a favore dei shop, degli OTC e di tutti i prodotti che sono in libera vendita. A questo punto viene naturale fare due affermazioni. Uno, la necessità di stoccare all'interno del magazzino robotizzato e sottolineo magazzino tutto ciò che per dimensione è peso e al suo interno gestibile e che contestualmente deve contribuire all'aumento dello scontrino medio. Due, che l'automazione di magazzino è la vera luce in fondo al tunnel, che può riportare la tua farmacia ad essere un'attività imprenditoriale sostenibile e soprattutto redditizia. Vorrei che questo concetto ti rimanesse impresso, che ti aiuti a comprendere di cosa hai veramente bisogno per far crescere la tua azienda e soprattutto di come stabilizzare nel tempo il suo rendimento. Il mio obiettivo è quello di farti trovare la chiave che permetterà alla tua organizzazione di recuperare attimi preziosi da reinvestire all'interno della tua azienda e avere così la soddisfazione di essere riuscito a migliorare sensibilmente la tua professione.